Giacomo Garavaglia, il Giro dell'Appennino, una corsa davvero dura ma l'anno scorso si è andato benissimo. Sì, l'anno scorso era andato oltre le aspettative, speriamo di riuscire a rispederci anche quest'anno e vediamo come andrà. Una gara complicata, molte salite, secondo te dov'è il momento in cui si deciderà la corsa? Secondo me il momento decisivo sarà il penultimo Gran Premio della montagna dove sicuramente le squadre World Tour faranno un ritmo molto elevato e cercherò di tenere duro il più possibile. Grazie mille.